Siamo con un professionista della medicina, siamo con il dottor Carmelo Pecora e parliamo di salute. Parliamo di salute perché non bisogna andare fuori per ammalarsi, ma addirittura nelle nostre case ci sono dei pericoli molto seri. Parliamo di questo oggi e soprattutto cerchiamo di avvisare le persone come tutelarsi. La mia esperienza di direttore medico della Domus Line Italia mira proprio a questo. Sensibilizzare la popolazione e spiegare nel dettaglio quelli che possono essere i danni a lungo termine legati all'inquinamento elettromagnetico. Un nemico invisibile, un nemico che non riusciamo a registrare facilmente all'interno delle nostre case se non attraverso apposite apparecchiature, ma che è in grado di poter determinare alla lunga, quindi non sono effetti riscontrabili nell'immediato, dei danni alla salute di vario genere. Danni più lievi possono essere quelli legati alle turbe del sonno, legati alle disfunzioni ormonali, legati alle difficoltà alla corretta concentrazione oppure legati a sindromi dolorose di lievi entità. Danni molto più seri sono quelli legati agli effetti cancerogeni a livello delle cellule del nostro organismo, quindi con la possibile insorgenza di patologie tumorali. L'inquinamento elettromagnetico è sicuramente un nemico difficile da combattere, non è possibile abolirlo completamente perché nasce sostanzialmente da tre fonti. Le onde geopatogene, l'inquinamento legato a tutte le trasmissioni terrestri elettriche e via radio, ma tutto questo viene implementato dalla presenza all'interno delle nostre abitazioni di sistemi elettronici e di elettrodomestici. Un loro corretto uso può sicuramente evitare di andare a peggiorare quelle che sono delle situazioni già compromesse da un punto di vista geografico. Ho parlato con il dottore Pecola che ci ha spiegato quali sono i rischi che corriamo nelle nostre case e quindi adesso siamo con l'ingegnere perché vogliamo capire scientificamente quali sono i pericoli che ogni giorno noi abbiamo nelle nostre case. La corrente, quindi queste cariche che fluiscono, danno luogo ad un campo magnetico che si aggiunge appunto a quello naturale terrestre. Per cui se dentro casa siamo protetti da quelle che sono le fonti esterne, evidentemente siamo circondati da fonti invece di natura interna. Per cui qualunque tipo di apparecchiatura è fonte di campo elettromagnetico. L'intensità del campo elettromagnetico dipende dalla potenza dell'apparecchio che noi utilizziamo. Per cui un forno a microonde sicuramente avrà delle potenze nettamente superiori a quelle di una stufa, a quelle di una lampada, specialmente quella risparmio energetico che adesso abbiamo tutti noi a casa nostra. Questo significa che quindi, come già ampiamente anticipato dal dottore Pecola, allontanarsi dalla fonte sicuramente è una possibile soluzione. Altra soluzione è un uso corretto delle apparecchiature, ma infine la schermatura, l'aspetto schermante è l'aspetto principale per il quale dobbiamo stare attenti e andare ad operarci in futuro. La qualità quindi della vita e della nostra salute dipende appunto da questo tipo di utilizzo. Come poter aderire a uno dei vostri seminari dove spiegate come funzionano queste cose anche dal lato medico e anche dal lato scientifico. Il progetto Domus Line è un progetto molto ampio, è un progetto che ci vede coinvolti nel sociale con delle consulenze sia individuali che di gruppo nei vari convegni comunali e nei vari convegni presso vari istituti e anche le scuole. Per chi volesse avere delle informazioni dove ci troviamo nella zona di Cosenze e provincia può rivolgersi tranquillamente presso i nostri studi. Su Cosenze è presente con uno studio in via Rossini o consultando sulle pagine Facebook proprio la Domus Line in Italia o la signora Esterina Scalercio che è la responsabile dell'ufficio.